buonasera buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova live di giovedì 23 aprile 2020 oggi parlerò di nuovo della guarigione soprattutto della guarigione a distanza visto il periodo che stiamo vivendo tutto il mondo adesso e quindi penso che sia un discorso che dobbiamo fare sempre di più questo appunto del lavoro a distanza online via dicendo intanto aspetto come sempre questi primissimi minuti iniziali per permettere alle persone che vogliono seguire di poter essere con noi spero che questa serata sia abbia una buona qualità di connessione di audio ciao a tutti vi vedo grazie grazie giorgio dimmi se va tutto bene oggi con audio via dicendo perché spesso in questo periodo si ha le difficoltà di connessione allora mentre voi vi connettete ciao a tutti io intanto vi ringrazio tantissimo perché l'altra nell'altra live ci sono state tantissime persone che avete seguito anche nonostante tutte le difficoltà di di voce che di audio che ci sono state ad ogni modo vi ringrazio tanto e volevo appunto ripetere perché l'ho già scritto che se c'è qualcuno che ha bisogno seriamente di una di essere inserito in una lista di guarigione a distanza dopo spiegherò meglio di nuovo cercherò di ricordare tutto ciò che ho detto la volta che cosa significa quindi diciamo che noi mandiamo energia a distanza va bene energia che poi uno può utilizzare appunto per una guarigione o per qualsiasi cosa sia buona per quella vita e grazie di tutti i cuori vi vedo e mi viene da ridere perché non so come ringraziarvi realmente ok allora vediamo intanto che si stanno iniziando a connettere le varie persone a spino ecco qui a tutti ok grazie giorgio grazie ancora ciao a tutti vi vedo eh non dico i nomi per non fare la lista però tipo ascolta però vedo vi vedo benissimo allora intanto che tutti si connettono e via dicendo io vorrei fare un attimo solo che guardo se questa cosa funziona va bene e vorrei appunto iniziare con un piccolo con un piccolo pensiero sul quale voi eh tutti dobbiamo poi mh lavorare e cioè che la guarigione è una decisione stipulata e l'universo chiamiamolo così chiamiamo l'universo per non chiamarlo dio per non chiamarlo e perché ognuno ovviamente ha la propria ciao Enrico eh di nuovo eh scusate eh eh ah dicevo perché ognuno ha la propria religione e questo non è assolutamente al contrario a nessuna religione siamo a partitici a politici a tutto non siamo atei allora Anna pane intanto che si connettono alle persone io leggo Anna pane dice da quando ho parlato con te mi sento un pochino meglio mi serve ancora tanta energia e noi qui siamo per questo fra le tante cose va bene poi tutti ecco io cercherò di sbagliare alle varie domande perché a un certo punto se no salgono e non riesco più ad andare a vederle ok devo aspettare un po' perché ci sarà in persone e quindi sicuramente devo vi lascio qualche secondo in più ok l'audio pare che vada bene grazie allora ehm intanto volevo sapere se ci sono delle persone che hanno appunto bisogno di una guarigione eh perché per un problema molto serio e mh perché le inserisco appunto in questa lista scrivetemi sotto eh il vostro nome e cognome e mh a parte che lo vedo mh non c'è problema eh se non volete scriverlo me lo scrivete perché per non metterlo pubblico ogni cosa non è tanto carino se volete eh anche se siamo in un gruppo comunque chiuso eh però poi andrà su YouTube quindi al limite non lo scrivete a parte che non si vedono le cose che sono scritte ovviamente sotto però insomma per se volete me lo scrivete a parte bene ok però cose importanti eh mi raccomando perché insomma allora mentre ehm aspetto volevo fare eh un un giochetto un gioco per modo di dire con voi perché perché vorrei eh in tutto questo c'è una cosa grande anche nel discorso guarigione ma si amplia su tutti gli discorsi che possiamo fare una questione di realtà e di percezione ok la realtà e le percezioni sono sempre e quindi non possiamo mai dire che quello che noi vediamo percepiamo sentiamo sia al cento per di una verità la verità che sicuramente c'è una cosa sicura che nessuno di noi ce l'ha il totale di questa verità possiamo vedere sopra soprattutto più o meno a seconda di quanto abbiamo lavorato su noi stessi un qualcosa parte di quella verità va bene quindi mh anche perché calcolate che dobbiamo fare un grande lavoro su noi stessi sto facendo altri discorsi un po' più ampli perché sto aspettando che possa arrivare tutte le persone a connettersi tanto saremo insieme fino alle diciannove e trenta quindi mi hanno concesso un'ora e mezza contentissima grazie Enrico grazie Già quindi grazie Focus di questo spazio e quindi vi volevo dire che in ogni caso eh ciò che appartiene ad un piano superiore al nostro può essere percepito realmente solo se noi mutiamo il nostro stato di coscienza per quello io dico sempre facciamo questo lavoro di ehm mutamento di alzare questo aprire lo stato di coscienza fino a quando ve lo possiamo portare a quel piano che noi vogliamo percepire leggere capire vedere in tutti i sensi no? Il che equivale a dire che è possibile per esempio conoscere il mondo a quattro dimensioni solo se amo se si possiede una realtà una coscienza quadridimensionale non certo perché qualcuno ce lo verrà a raccontare capito? Quindi o riduciamo alle tre dimensioni dei fenomeni che accadono eh in un mondo a quattro dimensioni e non lo possiamo fare oppure siamo noi che lavoriamo su se stessi su noi stessi per poter percepire quello che avviene in un piano superiore non bene? In tutto questo dice che c'entra la guarigione? C'entra perché parliamo di guarigione ad anza il fatto già di distanza alcune persone non riescono a capire direi diceva ma che fanno? Ma che? Ah la voce va a scatti non ci credo dico t'ho già sentito questo è scatti di nuovo scusate posso chiedertela per due persone non per me? sono d'accordo? Sì non lo leggo a voce alta però Rita Ferraro mi ha detto io dopo spero che ci sia qualcuno anzi chiedo a qualcuno di voi se mentre passano tutti i messaggi i messaggi i vostri commenti se può prendere nota delle persone va bene? Basta solo nome e cognome perché poi dopo sennò io ho paura che a volte anche quando la vado a rivedere a volte alcuni messaggi purtroppo non li vedo più. se c'è qualcuno mi fa questa cortesia un grande aiutante ok ok la cosa che voi cioè questa cosa che poi noi facciamo no? di aiutare mandare guarigione mandare a distanza questa scusate che guardo questa energia di guarigione lo potete fare anche voi lo possono fare tutte le persone perché? perché arriva comunque l'intenzione l'intenzione arriva ok? quindi voi fate tutti i corsi possibili immaginabili che possiate fare interessatevi a qualsiasi cosa che sia nelle vostre corde che risuoni dentro di voi però poi fatevi una tecnica vostra no? più che altro perché? perché in realtà anche la semplice preghiera funziona anche un bel pensiero che sia profondo vero funziona come fanno? arrivano talmente tante cose arriva tutto perché siamo collegati a livello elettromagnetico gli uni con gli altri quindi arriva assolutamente tutto e dobbiamo fare questo sforzo di crescere proprio noi facendo un lavoro continuamente per gli altri va bene? se uno lo fa a livello egoistico tipo io lo faccio perché è così magari mi torna indiare o no non funziona così non funziona così comunque ad ogni modo quello che io vi volevo dire è proprio questo facciamo un esercizio di percezione va bene? perché? perché tante persone mi dicono io non riesco non credo che ci siano altri modi questa cosa non funziona funziona e faccio l'esempio che magari conoscete tutti dell'autobus ok fare un test va bene? allora c'è un autobus dove salgono otto uomini e due donne fa varie fermate scendono alla prima fermata tre donne salgono due uomini alla fermata successiva salgono due donne scendono tre uomini e continua di nuovo la sua corsa alla terza fermata scende un uomo salgono cinque donne e continua di nuovo questa sua corsa e dopo all'altra all'altra fermata scende un uomo scende una donna e fino a quando continua ancora questa corsa l'autobus ad un certo punto si ferma per fare quest'altra fermata scendono tre uomini e sei donne ok? la domanda è quante fermate ha fatto l'autobus? io l'ho detto capito? alla quinta alla sesta per aiutare ma quanti lo hanno sentito no? perché dimostra tutto questo una piccola cosa che nonostante elaboriamo un milione di bit di informazioni al secondo il nostro cervello lo fa e il nostro cervello ha la capacità di portare allo stato di coscienza solamente poche informazioni questo significa che non che siamo limitati ma che usiamo una piccolissima parte come ormai sappiamo tutti del nostro cervello giusto? quindi per questo io vi dico quando noi parliamo di alzare le vibrazioni e tante persone mi dicono ma no ma non esiste questa cosa non è vero non me lo dicono sanno che è una verità però è tutto vero ok? quindi anche nella guarigione che significa autoguarigione perché la vera guarigione è assolutamente personale intanto non finirò mai di dire che appunto riprendo quello che ho detto appena abbiamo iniziato questa live che la guarigione degli altri non dipende da noi la guarigione quindi noi non guariamo nessuno mettetevelo in testa se c'è uno che dice io sono un grande guaritore scappate a gambe elevate va bene? perché non è assolutamente così noi quello che possiamo fare è inviare essere portatori messaggeri apriamo le porte fate quello che volete chiamateci come volete ma non siamo guaritori va bene? quando diciamo che mandiamo guarigione è un po' un modo di dire è un modo per capirci ma in realtà inviamo una energia di guarigione che però anche su guarigione bisogna stare attentissimi perché che cosa ho detto all'inizio? che la guarigione è una decisione stipulata tra il paziente quindi la persona e l'universo va bene? scusate io sono sempre dalla parte di chi deve risistemare quindi lo chiamo così e quindi la cosa più importante di tutte da comprendere è che per comprendere tutto ciò noi ci dobbiamo mettere non nella nostra personalità non nella nostra dimensione umana ma a livello di anima ok? se noi saliamo a livello di anima sappiamo capiremo che siamo venuti in questa terra per fare un percorso un'esperienza terrena nella quale dobbiamo portare avanti il nostro percorso spirituale va bene? è come una scuola lo diciamo sempre c'è chi sta agli inizi chi fa le elementari chi fa l'asilo chi fa invece magari già un dottorato di ricerca va bene? un attimo che guardo ok? intanto per favore potete scrivere le persone che hanno di guarigione va bene? Roberta Coluccia dice ti sto ascoltando mentre dipingo è bellissimo grazie Roberta ma che cosa è bellissima anche la guarigione perché quando tu dipingi stai meditando è una prima meditazione e Roberta dice ha un costo chiedere la guarigione a distanza assolutamente no ci manca solo quello allora per quanto riguarda me le persone che lavorano con me insieme a me il nostro gruppo i miei gruppi noi mai mai abbiamo chiesto nulla per tutto questo perché? perché è un lavoro soprattutto per esempio io posso parlare di me ovviamente ma ognuno ha le proprie motivazioni io lavoro non solo in questo campo diciamo che è un campo enorme io più che altro faccio ipnosi corsi per la appunto per un lavoro sulla coscienza e via dicendo però faccio consulenze via dicendo quello è il mio lavoro ok? però c'è anche io so che questo mio lavoro io lo faccio non da sola ok? sono aiutata infatti tante volte non sulle cose tecniche ovviamente ma quando si parla a livello energetico di lavori energetici sulle persone ad un certo punto scendono diciamo così per capirci delle energie meravigliose purissime e noi facciamo un passo indietro ok? siccome noi non siamo altro quando mandiamo la guarigione che canali io non mi faccio pagare per fare il canale capito? cioè per quello è il mio servizio perché noi siamo sulla terra non solo per noi stessi ma in servizio anche per gli altri e perché fa parte almeno questo è il mio modo di vivere di vedere la vita e di tutte le persone che lo fanno come me quindi no no assolutamente anche per la guarigione proprio perché non la diamo noi noi diamo solamente gli strumenti lavorando per esempio io do strumenti ovviamente devo essere perché che cosa do? do il mio tempo la mia preparazione tutto ciò che ho studiato tutto ciò che io sono quello lo do tutto no? e quello è il mio lavoro però di notte faccio questo lavoro che è anche per bilanciare le varie energie e Marina se lo dice sarebbe bello autoguarirsi in realtà è tutta autoguarigione capito? tante volte il problema qual è? il nostro conscio non sta in connessione col nostro inconscio e quindi ovviamente tutto ciò che noi pensiamo che vogliamo in realtà non è esattamente quello che la mente inconscia sai dice perché? perché quando ehm quello che vi volevo dire prima la guarigione a livello di anima è una guarigione che potrebbe passare per esempio attraverso una la morte per qualche persona ehm guarire significa morire va bene quindi siccome noi dal nostro piccolo punto e basso punto di vista per quanto alto per quanto siamo scintille divine ma comunque siamo ancora non abbiamo la possibilità di comprendere ok quindi nel nostro dal nostro piccolo punto eh di vista eccetera eccetera non possiamo dire che eh guarire per quello che noi intendiamo sia la vera mh salvezza della persona ok perché? perché non sappiamo che cosa può accadere quindi per esempio eh vi faccio un esempio pratico ok che è più semplice quando io ero nello tsunami sempre la mia storia eh ho ho pregato affinché tutti rimanessero vivi no? e in realtà poi mi sono resa conto di quanto era sbagliata quando per esempio io eh ovviamente non tutti potevano rimanere vivi anzi ehm quando ho visto un uomo camminare disperato perso la sua anima vagava eh non era più con quel corpo che era proprio un corpo che si muoveva come un automa e continuava a dire senza fine sempre lo stesso mantra praticamente la stessa cosa e diceva fortunato è chi è morto fortunato è chi è morto io lì per lì mi sono resa conto vedete quanto ci possiamo sbagliare io nonostante sappia tutto ciò che dico a voi e ce l'abbia proprio dentro mio io là mi sono proprio ehm mi è venuto spontaneo salva tutti no? soprattutto i bambini soprattutto ehm tutti che è successo che è successo che mi sono resa conto che quell'uomo in realtà stava soffrendo da morire perché era ferito perché non aveva più i figli non aveva più la moglie non aveva più nessuno della sua famiglia e come dico anche nel libro che ho scritto sono persone alle quali è stato tolto tutto ma tutto anche ehm i ricordi sulle fotografie capito perché io per quanto io abbia perso tutto quando sono ritornata in Europa eh però avevo ancora alcune perlomeno certe cose io vivevo lì ovviamente le ho le ho perse quante cose ma non fa niente capito ehm perdere veramente tutto è un'altra cosa noi friati sì mh io capisco perché capisco tutto e tutti eh però ho visto che cosa significa perdere tutto ma proprio tutto ok che significa in blocco tutti i figli tutti i parenti e rimanere assolutamente soli senza casa senza soldi senza niente capite in un posto dove se fosse stato bombardato sarebbe stato meglio capite qual è il problema quindi insomma è sempre molto molto relativo quindi ehm Roberto Coluccia dice pratico reiki è uguale e comunque mi vorrei se è possibile mettere nella lista sì sì per favore c'è qualcuno che prende le i nominativi grazie e quindi questo vi volevo dire capito eh sì sì puoi fare qualsiasi tecnica a te sia consona e tu te la senti tua non c'è problema io ho studiato tante cose tante tecniche perché perché a me piace la ricerca quindi in realtà quella è la mia passione mi piace sapere mi piace scoprire il fatto che tutto ciò che io facevo da quando ero piccola piccola senza neanche dirla a nessuno perché per me era normale poi l'ho ritrovato in altre persone che l'hanno spiegato come se fosse la grande novità no? e invece guardate ragazzi sembra tutto un copia copia perché non è nessuno ha questa grande novità in mano quando io ho visto per esempio il film com'era il il miglio verde no? sono caduta in ginocchio perché pensavo che fossi l'unica a fare questa cosa che uscivano quelle cose verdi no? tipo palline chiamiamolo così di energia verdi dalla bocca eccetera eccetera io sono rimasta esterefatta ero molto più giovane e mi ho detto allora non è una cosa che mi sono inventata no? capite? anche se per me funzionava quindi non era quello non è che mi devo dare delle prove però a volte ti serve no? ti piacerebbe dire agli altri questo esiste soprattutto quando eravamo giovani perché oggi grazie carina grazie dei complimenti perché oggi siamo persone che non ci rendiamo conto no? di quanto sia vasto tutto questo immenso universo che non vediamo però però possiamo già parlare fra di noi per esempio in questi gruppi i nostri gruppi meravigliosi che era è qualcosa di assolutamente impensabile sino a pochissimi anni fa no? ok per tornare appunto al fatto della guarigione la guarigione è esclusivamente tutto auto guarigione quello che facciamo è che facciamo scattare nella persona quel click che poi porta all'auto guarigione va bene stessa cosa con tutto il resto non crediate quindi è perché una problematica sia che sia fisica emotiva mentale nasce da una disarmonia una mancanza di allineamento con quella che è la nostra essenza e quindi il problema intanto è sentire che uno ha la propria essenza capite? che cosa andiamo a fare noi? diamo un'energia che va a lavorare proprio su questi disequilibri su queste disarmonie e su questo appunto scattano tante cose che poi vengono chiamate miracoli che poi vengono chiamate in tanti modi va bene come se fossimo noi dei scesi sulla terra per carità la sto guardando a tutti le vostre richieste va benissimo c'è qualcuno che mi può prendere scrivere le richieste per me grazie quindi la cosa che dobbiamo fare appunto senza pensare che dobbiamo imparare chissà quale tecnica sì sì per carità va benissimo però dobbiamo intanto comprendere come arriva questa guarigione a distanza per esempio all'inizio io faccio ricreare faccio ricreare olograficamente la persona che deve ricevere guarigione a distanza e faccio operare con le mani si prende l'energia insomma ci sono tecniche ovviamente non è che le posso dire qua ci mancherebbe che in un'ora e mezza facciamo chissà che cosa e mandiamo questa energia a quelle persone si può andare in astrale che è la cosa più comoda tantissime tantissime cose ma anche solo il fatto che sappiamo che stiamo c'è qualcuno che magari non ci conosce come nelle liste di guarigione che vi do io che c'è qualcuno che sta pensando a noi con amore ci sta inviando qualcosa di bello senza senza nessun tipo di giudizio capite perché il giudizio è qualcosa che ormai dobbiamo lasciare alle spalle proprio stiamo parlando di cose che non fanno andare indietro piuttosto che avanti e qui dovete assolutamente mandare qualcosa di bello di pulito per gli altri va bene la cosa importante ovviamente è che sappiate che tutti noi siamo fatti di energia e questo ormai è chiaro a tutti è che siamo sfere abbiamo la nostra la nostra aura che più o meno ha un diametro di circa 6 metri e mezzo 8 e adesso arriverò ora dovremmo fare poi un bellissimo discorso su tutti i chakra che probabilmente voi già sapete quindi adesso non so bene cerco di attenermi perlomeno un po' a quello che è l'argomento che volevo trattare oggi va bene quello che si fa aspetta che ogni tanto ho delle domande un attimo aspetta ah ilenna mi eseggo per tutti perché però si si lo so lo so e Anna Pane dice la mia guarigione può essere applicata anche al mio simbo cioè posso trasmettergliela certo certo tu che sei mamma ovviamente ovviamente quando noi tocchiamo cade un bambino cosa facciamo tesoro di mamma tocchiamo la parte ok e che pensate che stiamo facendo guarigione capito quando voi vi fa male una cosa ah lo facciamo così tutto ciò che è naturale che è spontaneo quando qualcuno ci dice qualcosa che ci fa male al cuore o qualcuno che ci fa veramente male che facciamo così no è fisica la cosa capite effettivamente stiamo facendo guarigione ok ok Rosanna Vuoto dice il tipo di auto guarigione è tutto nostro dipende da noi il problema è che spesso si può prendere tutto dagli altri si delega è solo nostro esattamente grazie Pam grazie a te è esattamente così solo da noi dipende la nostra vita mauria Luisa dalla torre dice si grazie sei una bella grazie a te è vero amare gli altri è meraviglioso io prego per lo li capisco perché in primis soffro perfetto generalmente è così quando uno soffre o ha sofferto si rende conto di più purtroppo ma sapete quella è un'esperienza anche nelle cose negative si rende conto di quanto stiano male le persone di quanto si possa veramente stare male quindi troviamo in persone che hanno sofferto tanto le persone magari più premurose le persone più altruiste no? perché da una grande sofferenza si esce sempre cambiati e si esce cambiati a livello proprio di coscienza alcune volte alcune volte si va avanti alcune si va indietro molte persone purtroppo diventano più dure molte persone purtroppo diventano più egoiste pensano solo a se stesse ma ragazzi questo è un discorso di evoluzione personale non ci possiamo far carico noi delle scelte di altre persone capito? quindi anche se per esempio qualcuno vi ha fatto del male volontariamente magari era qualcuno che doveva amarvi ovviamente ci dobbiamo sempre chiedere io che cosa ho fatto per carità però spesso ci dimentichiamo poi di pensare che ognuno con le proprie responsabilità va bene? poi ok allora anche qualsiasi cosa che sia pensato ok? con la mente comunque arriva anche quando noi facciamo delle visualizzazioni immersive per esempio quello fa autoguarigione perché tutto ciò che per l'inconscio è reale poi si manifesta nella vita ok? quindi quando noi facciamo le visualizzazioni per esempio che io per esempio utilizzo molto che succede? che queste visualizzazioni ci permettono di allineare conscio ed inconscio perché è sempre là il discorso è sempre lì dov'è il punto della questione è cercare di mettere in in contatto questo conscio con l'inconscio che è un po' quello che faccio quando faccio ipnosi cioè apro una piccola porta piccolina sempre più aperta a seconda di quanto sia giusto per la persona nell'inconscio dove noi abbiamo il 90% di tutto quello che esattamente non sappiamo faccio un esempio scusatemi molto molto così cadereccio vediamo un foglio bianco se ce l'ho quando lo trovo perdonatemi perché io non mi preparo mai le cose sempre tutto estemporaneo facciamo così no vediamo un po' se si vede scusa un po' allora se la nostra mente che rappresentazione facciamo finta che questo sia un 10% ok noi utilizziamo questa parte la parte conscia tutto ciò che sta qua noi non lo riusciamo a vedere e per dirla un pochino più profondamente qua nel punto più lontano possibile ci sta tutto ciò la nostra parte oscura fra virgolette non pensate niente di negativo ok quindi tutto questo ci porta a vedere a spiegare come mai tante volte noi pensiamo di voler guarire invece non guariamo perché in realtà la nostra parte inconscia sa che magari abbiamo fatto un altro tipo di contratto di vita diciamo così e quindi stiamo portando avanti quello che abbiamo definito il nostro cammino sulla terra capito marina dice come posso fare per prenotare una guarigione a distanza io ho un problema grande di salute grazie per aver risposto prima la domanda grazie a te figurati e marina basta che tu lo scrivi l'hai già scritto noi facciamo una lista e ci lavoriamo quando possiamo e inviamo guarigione a distanza a tutti quanti non c'è problema basta dire capito perché ci connettiamo con quella che è la tua energia e mandiamo guarigione a valanga a distanza molto spesso mandiamo guarigione a tutto il mondo capite perché ci sono tante persone che non arrivano che non hanno la possibilità di sapere di capire e via dicendo quindi noi la mandiamo in maniera scadenzata energia energia meravigliosa che viene dall'universo ovviamente e che scusate che stavo leggendo e mi distraggo e che è a disposizione delle persone che ne hanno bisogno questo bisogna fare più attenzione perché è energia e quindi dipende poi dove va per quello sono cose che non le fate così a caso lui si dice quando i miei bambini hanno dei doloretti tipo mal di stomaco tipo mal di stomaco io gli metto le mani sulla pancia immagino che dai palmi venga fuori un'energia che gliela faccia passare e spesso funziona bravissima ma non sempre certo che non funziona sempre perché talvolta noi non siamo collegati connessi perché non è che dobbiamo fare che possiamo fare una trasmissione di energia dicendolo così magari pensiamo no a quanto vorrei stare che ne so in Polinesia francese si può anche fare ma nel frattempo siccome tanto siamo multidimensionali dobbiamo anche avere una connessione con un'energia elevata ovviamente poi garante ci ma grazie a voi figurati cioè veramente è qualcosa poi voglio dire questo l'importante l'importanza di fare del bene agli altri è che quando voi mandate scusate quando voi mandate guarigione o anche un solo un pensiero meraviglioso ad un'altra persona che cosa accade che quel grande quella grande energia lavorando esattamente su di voi ok per le persone che credono faccio una una spiegazione diversa più visiva è come se abbiamo a disposizione una una luce un'energia che viene da altri esseri spirituali celesti eccetera eccetera chiamateli come desiderate che viene solamente noi stiamo facendo solamente un passa un passaggio capito stiamo passando questa energia che effettivamente come diceva prima la nostra amica passa dalle dal centro delle mani dal palmo delle mani e arriva alle persone ora tante persone dicono ma come faccio come si sente ragazzi molti di voi lo sono già in maniera naturale si sente tante volte io per esempio se lo faccio tanto noi ma anche Javier le persone che lavorano con me in questo io lo dico lavoro perché per noi è un vero impegno anche se è gratuito è un impegno quindi è un impegno più gravoso perché pesa in un certo modo ed è un impegno ancora più serio di quello che uno fa quando è serio uguale però comunque c'è un impegno perché non abbiamo un contratto con un datore di lavoro diciamo al nostro livello il contratto è molto più alto e quindi ovviamente ha un peso differente dicevo e a noi che cosa accade per esempio io ve lo dico perché se per caso succede voi già sapete che è normale quindi vengono tutti i puntini rossi come quando uno cade struscia e toglie la prima parte della pelle si vengono tutti i puntini la stessa cosa però non vi preoccupate perché poi dopo passa capito dopo un pochino oppure per esempio io quando ho lo smalto e se faccio questo tipo di lavoro dopo un po' è come se ci fossero tutte bollicine per come se bollisse proprio si scalda infatti sentiamo un grande calore o anche fresco dipende da quello che serve e poi certo noi facciamo un discorso diverso perché utilizziamo tecniche nostre di tutte cose energetiche capito una cosa una cosa è passare solamente questa questa energia e una cosa è lavorare con l'energia per sistemare tante cose a livello energetico nella persona quello è un altro discorso quindi noi abbiamo queste nostre tecniche energetiche bioenergetiche che ovviamente ci portano a lavorare tantissimo con le energie e quindi scarico appunto le energie in più e quindi vediamo che dopo tanto dopo un bel po' che ci lavoriamo soprattutto appunto lo smalto si cuoce ora io se avessi una foto qui ve la farei vedere non so la vedo subito anzi scusate non vi voglio far perdere tempo mentre parlo cerco ok vediamo se non le ho tolte perché ovviamente i telefoni dopo un po' non ce la fanno più e vengono e li devo assolutamente pulire no vecenti no vediamo eh nel frattempo che cerco perché è una cosa molto molto evidente aspettate vediamo se ce l'ho arriva e ve la mostro e nel frattempo voi queste domande vediamo un po' se c'è un altro ciao grazie ecco Guglielmo per esempio ciao Guglielmo Poli ciao Guglielmo Guglielmo è un big un grande della Reconnection io adesso non è che posso e voglio fare pubblicità però la Reconnection per il mio punto di vista l'ho fatta anche io con loro eccetera eccetera con il dottore Eric Perle è quella che più oggi è la tecnica energovibrazionale che più si avvicina a a un range di energie che stanno arrivando e più si adatta a quelle che sono le energie perché l'energia cambia ragazzi se noi abbiamo una tecnica appresa 500 anni fa ovviamente se noi rimaniamo su quella tecnica non abbiamo più la possibilità di essere connessi con quella che è la vera energia che sta arrivando nel momento capito quindi che cosa fa per esempio la Reconnection poi ne parlerà se è possibile però lo vedo qui quindi sicuramente può essere e sarà dei nostri perché Guglielmo Poli è una meraviglia sulla guarigione di reconnessione che cosa facciamo quando facciamo questa reconnessione ve lo dico in breve perché non è questo il tema della serata si fa una io per esempio a livello mio poi lo spiegherà benissimo Guglielmo un giorno io faccio una guardo il campo della persona ok mi connetto al campo della persona con la Reconnection non c'è nessuno non c'è una diagnosi non è che andiamo a fare diagnosi come in altre tecniche energetiche non si fanno diagnosi perché la cosa è importante perché non essendo medici la maggioranza tantissime persone non sono medico no? che cos'è? si può sbagliare diagnosi e quindi uno va magari a mettere le mani pensando perché sapete il problema è sempre la protezione di ego ci sono tante persone che siccome vedono dei risultati pensano wow sono un grande no assolutamente no cioè quello dipende anche dall'interazione di questa persona con te nel momento in cui tu gli hai fatto questo questo lavoro capito? questo dono poi in fondo no? sempre si tratta di campo elettromagnetico no? di questo campo elettromagnetico che è l'aura umana questo campo di energia sottile che ci circonda e che è proprio come un'estensione del nostro corpo fisico che succede? che andiamo a lavorare su quello perché l'aura soprattutto per esempio persone che come me vedono l'aura da sempre che fa a me quest'aura a parte per io leggo no? la persona perché è ovvio che tu nasci così e più o meno a un certo punto a prescindere da tutto ciò che è simbolico tutto ciò che è il significato dei colori però tu personalmente io personalmente mi sono fatta un mio codice no? ovviamente quindi dopo tanti anni a me basta vedere la persona vedo i colori quello è anche perché l'aura non mente mai la bocca mente ma i colori non mentono mai non solo i colori ma ovviamente la vibrazione l'energia che si ha eccetera eccetera quindi io da l'aura comunque a prescindere da tutto il resto leggo la misura visiva diciamo mi fa mi dà la misura visiva dello stato emotivo fisico mentale spirituale della persona e io da lì vado a lavorare quando faccio appunto queste tecniche energetiche va bene con la reconnection che appunto io ho detto insieme perché è qualcosa che io utilizzo e rimando sicuramente a Guglielmo è che facciamo facciamo un'osservazione del campo e quando noi osserviamo il campo il campo muta e quindi quando facciamo grazie alla biorisonanza va bene poi io davvero spero che lui parlerà perché è meraviglioso sentire la sua spiegazione quindi per cui è importante anche come noi vibriamo capito perché se l'operatore vibra a certe frequenze anche questa persona che viene trattata comincia a vibrare a questa frequenza e questa vibrazione è quella che riporta equilibrio e ordine ok questo si fa anche a distanza però è una cosa diversa per la reconnection è un lavoro proprio ok che facciamo ad ogni modo si dice appunto che non è una tecnica quindi una libera osservazione consapevole del campo e va bene poi appunto vorrò rimandare no a lui perché è veramente una persona si ma se c'è ah e intanto mi dice grazie alla tu ci ciao pam cosa ne si dire nei mei e beh ma è una persona meravigliosa dice le stesse e fa le stesse cose che facciamo noi quando uno pensa ah ma quella è tutto è un miracolo no oppure pensiamo ma io non lo posso fare impossibile ma non è vero siamo tutti esseri umani ragazzi l'essere umano è un miracolo di per sé è una meraviglia di per sé ma proprio tutti possono avere la possibilità appunto di provare di sentire eccetera eccetera per questo se io io l'altra volta quando mi avete chiesto dei libri come libri se non potete fare corsi eccetera eccetera ho appunto consigliato il libro del dottor Eric Perle The Reconnection e tutti i libri di Barbara Brennan no mani di luce e via dicendo quindi vediamo un po' di leggere commenti allora Ionella Telegescu dice ciao nel momento quando si mette la mano sopra a qualcuno si deve prendere qualcosa a pregare o semplicemente svuotare la mente di solito io prego ovviamente faccio quello che fa lei quando si fa male mio figlio forse si fa male metto la mano sopra nel posto in cui se uno non ha una preparazione specifica in tutto questo o se non ce l'ha proprio naturale di nascita nel momento in cui tu vuoi fare qualcosa a qualcuno di bello di bene è meglio che svuoti la mente è meglio che non pensi diciamo la cosa migliore è appunto cercare di non pensare perché tante volte per esempio non ci rendiamo conto che magari quel dolore sapete i dolori riflessi mi fa male la spalla viene da un'altra parte totalmente invece questa energia va direttamente dove deve andare capito perché come dice nella reconnection e come diciamo nella reconnection passa anche informazione non è solo energia capito quindi è un'energia informata che va comunque direttamente dove deve andare all'origine del problema Manola Fanasca dice chiunque può imparare a vedere Laura e Antonella Vitelli dice allora ci dovrai leggere Laura ebbè ma è quello che faccio anche allora chiunque chiunque può vedere almeno la parte la prima parte dell'aura quella che è proprio attaccata attaccata al corpo fisico che poi è il corpo eterico no? quella si vede tutti lo possono vedere con un minimo di esercizio su quello ci possono arrivare tranne le persone che non la vogliono vedere perché tante volte diciamo voglio 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 poi invece alla fine ne vogliamo proprio per niente e quindi ovviamente cambia molto la situazione e per quanto riguarda tutto il resto dell'aura quello dipende sempre dal livello evolutivo della persona e soprattutto da quanto uno ci lavora da quanto uno fa esperienza con tutto questo certo che tante persone mi dicono ma come si fa a vedere eccetera eccetera io dico avete visto per esempio il film la profezia di celestino no? nel libro non si può vedere ovviamente però siccome siamo esseri umani la parte visiva è importante per tutti noi se voi guardate il film proprio la profezia di celestino vedrete che da un certo punto lei spiega al protagonista principale appunto come vedere il filo di luce che c'è fra le dita se noi per esempio mettiamo le dita così e c'è un filo di luce guardando al centro di questo gli occhi storti di queste delle dita muovendole pochino pochino ma se guardate il film è facilissimo da vedere ed è un po' anche quello che si vede per esempio se qualcuno di voi va in chiesa perché la chiesa ha un colore scusate ha una illuminazione particolare se voi guardate a volte ci sono dei preti che sono un po' più illuminati diciamo così ora io non faccio non so né per l'uno né per l'altro quindi figuratevi però ci sono effettivamente delle persone che hanno più luce in tutti anche perché sia preto o no però quel tipo di illuminazione ci dà la possibilità di captare meglio e di vedere meglio quell'aura soprattutto la parte questa della parte della parte superiore del corpo ed effettivamente si vede molto molto punto poi quali sono i colori per una bella aura allora non è tanto il colore in sé a parte che il colore è vibrazione no quindi partiamo da questo quindi è la vibrazione di quel colore il colore in realtà io lo dico dei colori che somigliano in qualche maniera a quelli che io vedo ma in realtà non è un colore identico cioè quando io dico rosa non è il rosa che uno può immaginare quando io dico giallo è un altro tipo di è più vibrante è più ha delle qualità differenti di un colore che possiamo utilizzare sapere noi con l'occhio umano no fisico quello che è più importante è quanto è vivo quanto è quanto è brillante il colore perché uno può avere anche un bellissimo colore verde ma se il colore verde che significa guarigione quando uno può effettivamente passare la guarigione agli altri perché ci sono persone guardate ragazzi che sorridono e con un sorriso gli altri si sono sono guariti perché la guarigione è anche far stare meglio l'altra persona perché se per esempio una persona deve morire per esempio per forza perché a certo punto noi tutti dobbiamo morire prima o poi non è che possiamo quindi alla fine il fatto di essere lì e poter far andare dall'altra parte del velo una persona in serenità è importantissimo capito perché importante è come si muore anche quindi questa è una delle cose più importanti quando noi vibriamo in una maniera positiva alta quando appunto si dice vibrate alto che tante volte le persone mi dicono ma che significa vibrare alto ed effettivamente così si fa anche un po' sorridere però vibrare alto significa appunto poi portare avere questi colori meravigliosi questi colori che spiccano sapete quando noi diciamo per esempio una persona quella è una bella che persona cuba ma mica solo perché sta così o perché si veste di nera è una persona cuba si vede si sente soprattutto capite è una questione proprio qualcosa che si sente dentro giusto quindi e poi tante persone mi dicono ma io ho paura sai queste energie ma allora intanto mettiamoci d'accordo su una cosa tutte le energie che ci circondano sono energie con le quali noi viviamo e nelle quali noi siamo immersi sempre quando siamo vivi no quindi e dopo in un certo senso a seconda della dimensione e quindi di che cosa dobbiamo avere paura no uscite fuori questa paura perché fuori dalla paura ora mi ricordo mai lo dico sempre mi ricordo mai chi l'aveva scritto e detto fuori dalla paura c'è un sole bellissimo in realtà io dico che c'è un universo bellissimo capite perché potete andare a vedere perché se anche non lo vedete perché tante persone mi dicono ma io non vedo non fa niente percepisci percepisci quello che c'è bisogna farlo sempre questo tipo di di approfondimento no dell'attenzione verso gli altri quando siamo con un'altra persona chiudiamo gli occhi cerchiamo di percepire quello che ci arriva dell'altra persona cerchiamo di percepire le vibrazioni di quella persona delle persone per esempio non vedono Laura ma la percepiscono ad esempio Javier che lavora con me lui la percepisce la sa no anche non vedendola con gli occhi fisici ed è infatti da ridere a volte mi precede e mi dice mamma mia che colore meraviglioso blu no magari o azzur quello che sia e io dico eh lo vedi ed è bello vedere questa concordanza pur passando da sensi completamente differenti no è importante questa cosa quindi cercate di sentire cercate di andare in profondità in qualsiasi cosa che fate d'accordo perché quella è la cosa importante quindi per quanto riguarda i colori l'importante è che abbia un colore brillante poi rosa luminosa scialabba dice eticamente non si possono fare diagnosi certo io faccio l'operatrice volistica spirituale l'attora certamente sì perché la cosa bella di un lavoro olistico e di persone che lo fanno eh in seria coscienza e qual è è che hai un livello eh di coscienza appunto morale e eh ed è eh intatto il più possibile pulito capite perché per il discorso che facevo prima perché noi ci rendiamo conto che siamo immersi in un'energia che possiamo chiamare divina ma per chi crede in Dio no per chi non ci crede è un universo va bene ma è un'energia di qualcuno che è sicuramente più mh eh più avanti di noi e ma tantissimo più avanti di noi cioè sta universi avanti a noi capito il discorso è molto più profondo questo degli universi non lo posso fare perché ok gialla è molto bello certo e gialla è anche un colore che indica eh studio della persona però anche lì dipende dalla nuance qui interna ornella telematica certo allora elda marchesan dice è vero c'è un sapere che sembra abbia una persona dietro di lui come si muove e Laura si muove con lui sembra quasi che lo rinqui a spettacolo ed è vero ciao è vero è vero è un po' quando tante persone a volte a notti dicono mamma mia ma che colore hai no anche chi non la vede a volte quando è forte si manifesta e tante volte anche se le persone non lo vedono voi sapete che c'è chi brilla di più e chi brilla di meno no sapete quante volte per esempio siccome io anche se sto nel periodo peggiore della mia vita io comunque sorrido io comunque cerco di tirare fuori la mia essenza non quello che passa dalla mia personalità dai problemi della vita quotidiana che per quanto enormi e vi assicuro che insomma anche solo l'ossutenza che va davanti vi fa capire che non è che sono stata in una vita no di bambaggia e basta nonostante tutto dobbiamo cercare di far uscire da noi stessi la nostra essenza perché qui chi sta lavorando non è solo il corpo anzi il corpo è uno strumento è un veicolo chi sta lavorando è la nostra anima il nostro spirito attraverso la nostra anima eccetera eccetera poi e Maria Luisa Dallatorre dice altro che è vero morire sereni sì 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 è importantissimo visto che faccio appunto anche l'accompagnamento ai defunti e anche a quelli che arrivano perché abbiamo sempre di quelli che muoiono ma e no anche quelli che arrivano hanno un'importanza enorme perché è un'anima che si sta incarnando e quindi a volte appunto è a felicità di essere di essere spagnata accolta no e facciamo anche questo ma nel caso appunto del momento in cui uno passa dall'altra parte del velo è importantissimo come trapassa poi Manola Fanasca dice è vero io dico lo sai è vero avete visto ah a volte perché mi perdo nei discorsi perché io non mi preparo niente quindi poi ovviamente mi perdo perché sono discorsi di cui si potrebbe però per eoni quindi niente mi sono ripersa e allora Roberto va davanti Roberto a bocconello dice io le vedo le aure brava brava nel senso si vede che già lo hai lo hai incorporato in te e anche mia figlia ma non comprendo perché non tutti i colori ah ok il verde il blu il viola ma altri no come il rosso l'arancione non capisco perché non riesco a vederli tutti molto particolare questa cosa perché in realtà non l'ho mai sentita suppongo che sia uno sviluppo perché noi siamo sempre siamo sempre andando in un miglioramento speriamo insomma cerchiamo sempre un perfezionamento di quello che siamo non è che per esempio siccome io vedo l'aura allora dico ah ho finito no no e lì c'è il lavoro è là che anzi più ti rendi conto e più lavori e più devi andare avanti quindi continui perché può darsi che magari ci sia un range di colori che per te sia di più difficile una difficoltà più alta mentre alcune persone è un po' è un po' anche come uno iconico che i colori li vedi in un altro modo insomma in questo caso non è un difetto visivo è perché questo canale ti si sta sviluppando sempre di più allora Anna Pane dice è vero che c'è anche energia negativa ci sono persone che la trasmettono io a volte la percepisco e vorrei sapere se è una mia suggestione ma guarda in realtà è così nel senso ma non è che ci sia una cosa che una cosa sia terribilmente negativa o terribilmente positiva dipende da come sei tu per esempio alcune persone che vibran in una certa ad una certa frequenza per me sono negative diciamo e al contrario altre sono positive ma quelle persone non è che sono che per me sono negative non è che poi risultino negative a tutti capite perché è un po' stare fra i propri simili diciamo così anche dobbiamo imparare a stare in armonia in serenità con tutti quindi non è un'impressione è normale è così che effettivamente e ci sono persone per esempio che quelle magari io le allontano insomma cerco di non fare poi tanto adito tutto questo quando mi dicono ma tu brilli troppo no? sentite già che nella frase anche se non la persona non vede ti dice tu brilli troppo è perché a quella persona è arrivato qualcosa di te che ovviamente la fa la fa andare in una disarmonia diciamo così perché sono disarmonici e sarebbe lungo il discorso ma comunque insomma io mi allontano da chi vuole verso il basso che invece cerca di vibrare in alto o vibra in alto per una questione animica poi Lilith in luce dice io devo guarire senza dubbio da alcune cose prima di brillare e beh sì a volte questo accade ovviamente certo poi vado un paio indietro perché so che ne ho saltate alcune vediamo se riesco ad andare indietro Sole Viaggio dice ciao vissora ero là con i bambini della scuola ma avevi una cosa che i bambini poi che io ti conosco molto bene Sole Viaggio sto facendo una ragione no ragione poi vediamo un po' cerco di se ci sono dei commenti ecco ora mi sono saltati anche quelli nuovi no vediamo un po' se lo sposto un po' a vedere qualcosa ok cerco di andare su un discorso differente vediamo un po' scusate perché mi sono bloccati ecco qua Stefania Bannò dice meno male che brilliamo che non brilla resta lontano esattamente esattamente quindi voi cercate comunque di portare luce allegria amore bontà verso le altre persone e vedrete che poi sarete bene anche voi capito ora io quello che vorrei è che voi vi concentrati sulla costituzione occulta esoterica che paura no in realtà significa appunto che non si sa che non si vede per semplificare e quindi la costituzione esoterica dell'essere umano significa che dovreste tutti avere almeno un'infarinatura un'idea di cosa significano i chakra i corpi sottili e via dicendo ok perché quella è la base per poter poi comprendere tante cose e anche come funziona appunto tutto il processo di guarigione allora un attimo solo scusatemi e certi dice Maria Luisa Dallatorre certi si ritengono sempre positivi e vibrati vedono sentono vibrano e si sentono maestri io credo sia l'importante l'umiltà anche se non vedo nulla e beh Maria Luisa Dallatorre allora già che uno si sente un maestro ecco allora è proprio una scesa verso il basso che altro che vibrare in alto sono tante le parole che si dicono ragazzi io dico una cosa ognuno dice la sua ok ci sta troppo protagonismo ci sta troppo troppo ego ma è da questo che si fanno poi quelle scremature che sono necessarie per far sì che uno si possa affidare in un certo modo a qualcuno ok ma guardate che succede la stessa identica cosa anche nel campo medico per quando voi andate da un medico che fate se vi dovete operare no da chi andate da un medico che secondo voi ha parità di istruzione ok a parità di anni di di pratica medica che fate andate da quello che vibra poco sentite un po' così eh o andate da uno che sprizza energia che vi fa stare bene quando vi avvicinate a lui cioè quella è già la regione voi state prima di farvi operare capito quelli quei medici lì operano anche da prima e anche dopo capite perché ragazzi è anche vero che vi voglio dire c'è tanta gente che adesso sento che dice ah no però no no solo cose olistiche solo cose eh per carità la medicina allopatica per carità no 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 assolutamente ragazzi sempre questione di equilibrio mi raccomando non facciamo capito gli asini fucsia non sono mai volati e mai voleranno per lo meno per ora Elisabetta se ne senti in che cosa può aiutare la lettura dell'aura anche per la guarigione ti spiego per esempio a volte si rivolgono a me delle persone che hanno dei problemi nella lettura dell'aura c'è tanto c'è scritto tutto ci sono le vite passate che io in generale lo faccio a parte perché la persona se le prova ovviamente è un altro discorso sono discorsi più lunghi più profondi perché perché la persona in quel caso lavora personalmente perché è importante il lavoro personale capite purtroppo c'è un po' questa abitudine di andare da qualcuno tu mi fai tu mi dici tu 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 no il lavoro se non lo fa la persona non parte poi quella cosa responsabile di chissà che comunque ha un corpo ha una mente ha una psiche eccetera eccetera che deve mantenere in salute capite quindi quando io vado a leggere l'aura di una persona che faccio lo dico sempre spesso una persona sa già chi è no sa già che cosa sta portando dietro come karma sa già le sue debolezze le sue i suoi punti di forza ma cresciamo spesso con un'educazione soprattutto passata che schiaccia tutto questo ok quindi io trovo personalmente vedo davvero tante persone continuamente da sempre da anni proprio una mancanza di autostima e una mancanza di amore proprio che è veramente sconcertante ok quando io vado dalla persona ovviamente di mettere in luce quelle che sono le capacità quello che sta portando che cosa deve lavorare nella vita come anima capite perché alla fine quella è la cosa importante capite è la personalità che a un certo punto fa tanti danni si arrabbatta diciamo così però il vero futuro è quello che noi stiamo facendo per esempio oggi stavo parlando con una signora che alla quale si rivede sempre questo loop e incontra sempre i miei che poi la tradiscono ok ma ovviamente fino a quando la persona la signora non cambia perché non possiamo cambiare l'esterno se non cambiamo noi all'interno capito perché sono sempre riflessi e ho detto bene alla signora fin quando ho detto alla signora va bene è una scelta tu puoi fare tutto ciò che desideri però renditi conto che siccome è tua la responsabilità della tua vita e dei tuoi cambiamenti fin quando tu non capisci che tutto ciò che ti è stato dato anche con grande dolore voglio dire perché uno ci soffre veramente mica per scherzo però quel dolore e tutte queste esperienze sono una grande opportunità per comprendere che cosa dobbiamo imparare una almeno delle lezioni che siamo venuti ad apprendere ad imparare nella nella terra sulla terra come esseri umani capito e questo è uno dei tanti delle cose che possono essere utili facendo una lettura aurica poi allora Claudia Luisi cosa pensi della possibilità di mettere a disposizione della luce la nostra anima mentre dormiamo in modo da aiutare tutte le anime disincarnate che in questo periodo si sentono terze io ti ringrazio che è quello che rimango un po' così perché questa cosa davvero mi mi tocca il cuore capisci perché probabilmente Claudia tu lo hai fatto in maniera molto naturale ed è ciò che io mi aspetto da tantissime persone perché se è vero che ci stiamo risvegliando è vero che dobbiamo sentire noi stessi sentendo noi stessi quello che tu dici il fatto di mettere a disposizione della luce la nostra anima mentre dormiamo significa che tu mandi comunque la tua anima a lavorare per aiutare gli altri capito se anche non è la tua anima perché noi possiamo lavorare in tutte le dimensioni giusto per aiutare gli altri anche questa intenzione mi raccomando la mente è importante è tutto lì ovviamente questo lavoro lo fai ed è un grande dono è un grande servizio che tu stai facendo poi Roberta Coluccia dice io da quando non penso più al male che mi è stato fatto e ho deciso di vivere nell'amore per tutte e per tutti è cambiata la mia vita vivo serena ed ho voglia di aiutare e amare tutto e tutti per quello che mi è possibile bravissima bravissima hai cambiato il paradigma capisci che grande cambiamento hai fatto perché è troppo facile dirà perché quello m'ha fatto allora io ho detto allora m'ha fatto e addio non la finiamo non la finiamo più perché se tu stai al confronto di una persona accanto a una persona che è così le cose sono due o ti trascina perché tu non la riesci a far alzare capito ci si può provare ma poi spesso le persone non vogliono quando sei di fronte a una persona che non vuole responsabilità sua non c'è dentro in niente a quel punto capito hai fatto quello che potevi guarda ti affido a chi ne sa più di me io mi tiro indietro e ognuno io mi prendo le mie responsabilità le due sono le tue stanno tutti arrivederci Anna pane dice è vero infatti mi allontano io ero molto solare adesso sono un po' spenta ma il mio brillare nonostante i miei problemi era fastidioso per alcuni e sai quante invidia infatti adesso sono tutti contenti per avermi spenta grazie per la tua risposta sempre cara Anna pane no torna a quattro occhi non so se riesco a guardarti negli occhi ma te lo dico proprio con il cuore torna a brillare ok perché perché il tuo brillare fa male a queste persone alle quali comunque io non dedicherei neanche più di un pensiero e una preghiera di amore ma fa bene a tante altre persone quindi tu sali e levati gioia allegria io a volte di persone mettete un film comico perché tutti mi dicono ma tu sei sempre con libri pesanti e certo come no io tutta una vita libri cose ma io mi guardo pure cose comiche capito metto un comico mi fa ridere mi tiro su e dico insomma mi rendo conto di quanto faccio bene anche qualcosa e tante persone ma che stupidaggine ma quale stupidaggine ma mica dobbiamo tutti non è vero che siccome è serio siccome è tutto così per carità ragazzi è un po' come quando diciamo del mondo di là che dicono ma che cosa terribile tutti i pianti le cose ma ragazzi voglio dire è pieno di medium che ci raccontano io non dico questo perché non lo faccio di lavoro voglio dire ma ho appunto esperienze quotidiane perché anche quando facciamo le regressioni è pieno di regressioni spirituali in cui si incontrano le persone proprio amati dall'altra parte del velo ma quanti sono quelli che ci dicono che cosa terribile nessuno praticamente nessuno tranne qualche caso in cui vogliono magari c'è qualcosa che è rimasto così ma ragazzi cambia la consapevolezza ragazzi di là non è vero che è tutto buio è tutto cubo ma per carità del signore anzi mandano sempre messaggi di meraviglia quindi la stessa cosa ma lasciamoli perdere quelli che fanno allora aspettiamoci di cadere se dobbiamo cadere ok e ma rialziamoci e brilliamo ancora più forti di prima va bene poi Stefania Bannò è una grilla Stefania risponde ad Anna e tu torna a brillare aspetta che non lo vedo più e loro si spegneranno tu torna indietro è ragione ma non solo si spegneranno loro sono già spenti capito quindi è quella la cosa questa è la base dell'invidia no per dirla proprio in maniera semplice semplice siccome non possono arrivare a brillare cercano di spegnere quelli che brillano e allora per esempio è un po' come quando in una in un incontro mi è stato detto no perché sai io non sono una persona così brillante intanto chi ti ha chiesto ma c'è no scusa non richiesta no e dice no io non non faccio queste cose perché ci sono tante persone che vogliono fare le serie per fare quelle che sapete ma per carità ragazzi ma siate voi stessi ma tirate fuori il meglio che c'è in voi perché solo quando date tutta la meraviglia oh ma se siamo spiriti che arrivano siamo scintille divine la scintilla divina santa pazienza non può essere una cosa così terribile capite quindi brillate e attraverso questo arriva l'autoguarigione poi ehm Maria Luisa Dall'Atre dice io devo imparare ad accettare il dolore perché si è sempre ripresentato in tutti i campi per tutta la meraviglia ha detto una cosa ottima deve imparare ad accettare l'accettazione è una cosa meravigliosa va bene è una delle tante cose che abbiamo dei tanti strumenti che abbiamo a nostra disposizione eh per poter effettivamente far nascere quel cambio che cambierà poi noi dall'interno quando cambiamo dall'interno possiamo cambiare tutta la realtà la realtà esterna abbiamo detto capito un'altra cosa che è molto utile è l'ascolto attivo ora sembra che non c'entri niente ma serve perché l'ascolto attivo è più è più efficace no? perché c'è un'abitudine che abbiamo tutti quanti di ascoltare gli altri in modo superficiale e in modo distratto di solito perché è una questione automatica siamo abituati ad ascoltare quando facciamo quando facciamo i corsi a volte facciamo un riassunto di quello che abbiamo detto nella puntata precedente no? nella nella lezione precedente facendo l'elenco dei punti sapete quante persone dicono ed è normale è normale quante persone dicono abbiamo fatto tutte queste cose non me ne ero reso conto no? sì è così quindi scusate che guardo e l'orario è 15 e e se è meravigliosa è uno spettacolo no? oggi sono anche stanca ma è una spettacola all'erica fux grazie erica fux dice da soli brilliamo ma se ci uniamo splendiamo e pian piano anche loro sono insantaggiati meravigliosa ed è per questo che siamo qui ed è per questo grazie a quello che hai detto tu che io ho la possibilità di dire che perché ci uniamo perché è brutto è veramente un andare contro quello che è il volere divino questo che si fa oggi ancora alcune persone stanno quell'orticello mio quelle sono le persone mie mamma mia cioè scappate le tani capito fuggite perché perché non è questo non è questo io ad esempio quando posso e le persone che mi stanno ascoltando alcune lo sanno io do sempre tutto a tutti se io posso anche persone appunto che fanno il mio stesso lavoro c'è posto per tutti ragazzi più facciamo più diamo più brilliamo tutti fin quando la popolazione umana non brillerà veramente eh troppe ne dovremo passare capito invece abbiamo questa possibilità di brillare andare avanti un bel sorriso ragazzo deve nascere da dentro perché nella nostra essenza siamo spiriti dice siamo sensi bagliori divini capite Stefania Bannot dice i migliori maestri ridono insieme agli allievi acquistano fiducia degli alunni e tu sei un insegnante meravigliosa ridi sempre grazie stefi grazie 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 allora ragazzi è un po' come tutte le persone grazie stefi perché dicendo che è così e non lo faccio ovviamente volendolo fare che sono proprio così anche volendo difficilmente riuscirei ad essere differente allora quando io faccio forse difficile che siano forse a meno che non siano per medici che devono usare l'ipnosi in situazioni di operazioni quindi di uniprinica eccetera eccetera chirurgia è difficile che io sia poi così di conoscere professionali no? professionale ma che significa mettere una distanza con chi con le persone alle quali tu stai facendo vuoi far passare a quelle persone invece il fatto di sentirla ecco chi mettiamo una distanza perché tanto sempre quella è distanza no? questa cosa no? ti faccio rispondere dal mio ma figuriamoci ragazzi io c'è la persona che collabora con noi che mi dice ma fammi fare qualcosa e ti aiuto sì sì però io ci tengo proprio a rispondere personalmente quando infatti vedete che arrivo in ritardo a rispondere è perché ci tengo proprio a rispondere io capiti perché comunque arriva è una persona meravigliosa è la ragazza che ci aiuta mia Javier però se no non potrebbe ovviamente ma non perché siamo meravigliosi perché ci piacciono le persone meravigliose no? quelle belle quelle spontanee quindi quando io devo fare un discorso anima anima con chi mi sta seguendo in un corso in una conversazione qualunque a me non piace questa distanza chi viene e sta con noi sta veramente con noi è come come si faceva una volta qualcuno sul piedistallo nessuno sta sul piedistallo nei nostri corsi nessuno sta sul piedistallo perché noi apprendiamo mentre facciamo il corso con gli altri perché? perché ci arrivano energie che ci aiutano anche a saper gestire tante cose sapete che anche la gestione delle persone delle energie è qualcosa che è sempre un continuo meravigliarci intanto ma è sempre in un continuo è un apprendimento che non finisce che dicevi dell'ascoltivo sì l'ascoltivo è importante perché quando perché ci porta a fare un lavoro più profondo in generale perché quello che io trovo che non aiuta è proprio il fatto di tante persone la massa sempre in superficie ok? anche sui discorsi che facciamo vi rendete conto che quando ci si incontra 99 volte su 100 avrete persone con le quali parlerete che mangiano sempre le solite cose se siamo maschi neanche le ripeto siamo femmine cultura poco poco di solito sono sempre delle cose a livello molto superficiale andiamo in fondo nell'ascolto attivo che facciamo stiamo attenti per esempio questa cosa che noi pensiamo che sia negativa del fatto che dobbiamo fare le cose a distanza in realtà io adesso che è solo tutto a distanza quindi sessioni individuali consulenze corsi è tutto a distanza in questo periodo lì per lì ho detto capirai a me piace abbracciarla la gente io facevo cose a distanza prima solo per le persone che stavano è sempre stato meraviglioso però l'abitudine è sempre quella che non ti aiuta oggi mi rendo conto che c'è una cosa meravigliosa stupenda che sta nascendo con questo perché quando le persone fanno quel passetto in più per creare che non che non c'è differenza fra stare vicini e stare a distanza e che cosa accade quando io ho una persona dall'altra parte dello schermo che fa siccome c'è questo schermo che sta a distanza allora che fa sta più attenta nell'attenzione arriva molto di più quindi quella persona ascolta di quello che io sto dicendo almeno un 40% più 30-40% più dipende dalla persona più sta attenta alla persona e dirò di più che una persona che crede meno in se stessa quando si è tutti insieme si ridà e un po' e gli cascano le cose addosso come a scuola noi dobbiamo stare a scuola quando siamo piccoli e ci arrivano la valanga di numeri di cose a me che uno non abbia fatto una scuola stessa in una Waldorf ci arriva tutta questa caterva di cose che dobbiamo ricordare ma insomma arriva sempre in maniera superficiale rimane in maniera superficiale se rimane quando rimane poi invece una persona che sta attenta la persona anche che è poco sicura di sé quando ancora siccome è poco sicura di sé quando mi guarda dall'altra parte dice come faccio a stare attaccata a lei in quella maniera si crea quella connessione meravigliosa che è poi la connessione che serve capite quindi è bellissimo questo è un altro è un altro dono che ci porta a questo periodo particolare che stiamo vivendo perché se non ci fermiamo a tutto ciò che è superficie ovviamente è una grande opportunità per tutti poi ilenia pelizzon dice grazie Pamela le tue parole mi aiutano sempre io spero di insegnare ai miei figli di esserci per gli altri sempre mi auguro che facciano come me ascoltino le mie parole ilenia grazie intanto che tu veramente siete tutti sempre così gentili carinissimi veramente mi siete molto cari la cosa più bella che tu possa fare è quella che già stai facendo cioè dare l'esempio essere la persona che sei e con l'esempio tutti prima o poi capiscono e chi non capisce la responsabilità sua d'altronde la sapete no? l'hanno detto qualche tempo fa qualcuno verrà lasciato qualcuno verrà preso qualcuno verrà lasciato adesso per concludere perché abbiamo solamente pochi minuti vi volevo lasciare oggi con una piccola una piccola poesia chiamiamola così non è una poesia è in realtà una preghiera sapete che i lakota hanno un modo di vivere no? che chiamano walking in beauty si chiama si dice che chi è che si cammina in bellezza quando hai la terra cioè la tua fisicità e il paradiso cioè la spiritualità in armonia ed è quello che possiamo fare quando noi abbiamo la terra la fisicità e il paradiso la spiritualità in armonia possiamo aiutare ancora di più gli altri inviamo un'energia di guarigione pura senza mettere noi stessi la nostra personalità in quello che arriva perché non è nostro quindi in altre parole dobbiamo vivere per lo spirito ma con i piedi per terra quindi c'è questa bellissima preghiera loro che dice ve la dico così cercate di stare un istante solo raccolti perché con questo vorrei che vi arrivi tanta energia e questa energia che sia a disposizione di ognuno di voi per quello che serve non è esattamente una preghiera di guarigione ma con questa preghiera io mando c'è l'intenzione di questa energia di guarigione grande mistero no? e è così che si intitola se ricordo bene e dice possa il grande mistero eliminare il nostro cammino grande mistero insegnami a fidarmi del mio cuore della mia mente della mia intuizione della mia saggezza interiore di tutti i sensi del mio corpo insegnami a fidarmi di queste cose affinché io possa essere possa entrare nel mio spazio sacro e amare al di là della mia paura e così camminare nella bellezza walking in beauty con il passaggio di ogni glorioso sole e con questo ragazzi io se non ci sono altre domande vi ringrazio tantissimo di essere stati anche oggi qui con me e mi raccomando di meditare il più presto eh sì scusate il più presto possibile si iniziate il più presto possibile voglio dire meditate e meditate perché non solo perché lo diciamo tutti noi che facciamo diciamo siamo qui ma perché anche numerose ricerche a livello di neuroscienze compiute in particolare e in particolare in tante università negli Stati Uniti e nel mondo hanno dimostrato che la meditazione agisce sulle sinapsi cerebrali e sulla produzione di endorfine a quando quindi intuizioni e allele sono appunto le basi importanti per tantissimo che poi accada e che accada nella nostra età quindi mi raccomando tutti insieme uniti chi invece mi piace di un mire di vita salutato e di guarigione a tutti quanti lo potete fare tutti un pensiero di amore e di luce a sempre da cuore a cuore come sempre io vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima un abbraccio grandissimo a tutti quanti muah muah un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio